Ciao a tutti, oggi prepareremo la zuppa di patate e zucca. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono zucca, patate, cipolla, dado bimbi, acqua, sale, olio, rosmarino e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e il rosmarino. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e li facciamo dritare per 5 secondi a velocità 7. Luginiamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo le patate, il pepe, il sale, il dado vegetale bimbi, e l'acqua. E facciamo cuocere per 25 minuti, temperatura 100 gradi, anti-orario, velocità soft. La zuppa è pronta, andiamo a impiattare. Zuppa di patate e zucca. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti!